Salve a tutti, mi chiamo Maria Lucia Siviglia e sono una studentessa del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Il libro che ho scelto si intitola L'Urlo dell'Universo e devo dire che inizialmente ero orientata su altro, però leggendo un estratto del libro mi sono resa conto che sicuramente l'intreccio tra fisica e narrativa sarebbe stato molto interessante e curioso e così in effetti si è rivelata la lettura. Si tratta di un viaggio in una realtà italiana in cui la fisica, in particolare la fisica delle onde gravitazionali, è il pane quotidiano di moltissimi fisici provenienti da tutto il mondo. Si tratta di Advanced Virgo, una realtà in cui mi sono addentrata e che ho conosciuto proprio attraverso questo viaggio di Jacopo, il protagonista del libro, che per un incontro casuale si è ritrovato a scoprire e a riscoprire la materia che lo aveva affiancato per cinque anni e che mi ha in un certo senso colpito personalmente perché anche io ho riscoperto un nuovo modo di approcciarmi alla fisica e un modo diverso anche di realizzare la presenza della fisica in ogni ambito e in ogni cosa che mi circonda. Mi è piaciuto molto l'intreccio e soprattutto il modo che l'autore ha utilizzato per creare questo connubio e mi ha permesso di scoprirmi nella figura di Jacopo, in particolare quando Agli stesso si è messo in discussione e ha riscoperto quelli che erano i suoi desideri per il futuro. Quindi ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di partecipare a questo concorso.